Sì, loro non sono in una situazione facile, sono in un brutto periodo, ma noi comunque abbiamo sempre la stessa mentalità, sempre la stessa voglia, quindi vogliamo cercare di raggiungere il massimo risultato, quindi andremo lì per giocarci proprio la partita e per riuscire a vincerla soprattutto. La maggior parte sono nuovi, comunque stiamo cercando di mettere in campo al meglio quello che il mister ci chiede e stiamo dando il massimo a tutti quanti dal primo all'ultimo, lottiamo come sempre in ogni partita e comunque io penso che stiamo anche migliorando, quindi andando avanti i risultati secondo me si vedranno e faremo sempre meglio. Significherebbe molto anche perché comunque l'importante è secondo me non perdere in un campo così molto blasonato come il Livorno che comunque l'anno scorso ha fatto la Serie A, quindi io penso che sarà una delle candidate comunque per giocarsi a promozione, quindi per noi fare il risultato è fondamentale, è molto importante, ci dà sempre più fiducia per lavorare al meglio. Ci sono rimasto qui con molta voglia e spero di poter fare ancora meglio della passata stagione. Sì sicuramente sarebbe stato utile più che per me per la squadra, però sì ci sta andando vicino ma il gol non è importante, l'importante è portare a casa il risultato e la vittoria, poi il gol e le prestazioni personali secondo me poi vengono in un secondo piano. Comunque con Raffaele io abbiamo giocato insieme nella primavera del Napoli, quindi già lo conoscevo e ci conoscevamo, anche con Camillo siamo stati insieme per una piccola parte nel ritiro con il Napoli, li conoscevo già, sono due giocatori, vabbè non sta a me giudicarli ma sappiamo che ci danno una grossa mano e danno una grossa mano alla squadra, sì sono due giocatori molto importanti e possono fare ma attivano.